ed egli a me tutti quanti fuorguerci sì della mente in la vita primaia che con misura nullo spendi offerci assai la voce lor chiaro la baia quando vengon a due punti del cerchio dove colpa contraria li dispaia e lui virgilio a me tutti quanti furono così guerci strabici nella mente nell'uso dell'intelletto nella prima vita terrena che fecero spese senza nessuna misura equilibrio molto chiaramente la voce le grida gli abbaia urla caninamente contro quando vengono arrivano ai due punti diametralmente opposti del cerchio dove la colpa contraria li dispaia divide in due virgilio mi risponde che tutta quella gente spese senza misura quindi dopo i peccatori carnali e dopo la colpa della gola qui l'argomento introdotto da pluto e ricco è la ricchezza materiale come il desiderio sessuale in 1 5 e quello della gola in 1 6 qui quello delle ricchezze materiali in 1 7 non è di per sé punito come male assoluto a prescindere ma sono puniti coloro che in la vita primaia quella terrena col corpo non ebbero equilibrio misura parola fondamentale nel soddisfare usare questi bisogni che ripeto non sono malvagi di per sé semplifico ancora di più non c'è niente di male nel volersi accoppiare nel bene nel voler bere o mangiare bene o nel possedere dei beni terreni e la mancanza di equilibrio l'eccesso l'incontinenza che viene punita in questo settimo canto vi è però una novità mentre tra i peccatori carnali non si fa accenno che siano puniti anche coloro che evitino i rapporti sessuali come ad esempio fanno in molti per motivi religiosi e tra i golosi non si fa accenno che ci siano che siano puniti tra loro chi eviti di mangiare qui per la prima volta viene espressamente descritto che sono puniti entrambi gli eccessi opposti nell'uso dei beni materiali colpa contraria li dispaia virgilio spiega che tutti e due gruppi di ombre quando erano persone non ebbero misura appunto ripeto però la chiave nello spendere le offese gridando perché tieni perché burli continuano a ripresentarsi ogni volta che si incontrano nel punto diametralmente opposto del cerchio dove sbattono contro chi si comportò in modo opposto e anche tra di loro quindi riguardo al loro essere guerci nelle mie rime 106 scrivo chi è servo è come quello che esse guace ratto a signore e non sa dove vada per dolorosa strada come lavaro seguitando avere ca tutti segnoreggia corre lavaro ma più fugge pace o mente cieca che non può vedere lo suo folle volere che il numero con ora a passar bada che infinito vaneggia ecco giunta colei che ne pareggia dimmi che hai tu fatto cieco avaro disfatto rispondimi se puoi altro che nulla maladetta tua culla che lusingò cotanti sonni in vano maledetto lo tuo perduto pane che non si perde al cane abbaia per iniziare un discorso da dove finisce il precedente continua a riprendere l'idea del cane in senso negativo che ci portiamo dietro dall insistentemente dal canto precedente e che ritornerà anche nel prossimo canto via costacco gli altri cani entrambi gli estremi sono puniti qui cito orazio nelle sue epistole 1 10 così chi per timore di miseria si priva della libertà più preziosa dell'oro per ingordigia perché del poco non si appaga si porterà un padrone sulle spalle e lo servirà in eterno se il tuo stato non ti si adatta ricorda quella scarpa che troppo larga ti fa inciampare troppo stretta ti piaga nel mio convivio 4 13 riporto lo secondo di boezio della consolazione delle filosofie per certo l'avarizia fa gli uomini odiosi e allora è buona la pecunia quando transmutata negli altri per uso di larghezza più non si possiede citando seneca che nel suo de brevitate vite scrive per quanti uomini la ricchezza è un peso e poi conclude così una delle sue epistole morales ad lucirium 1 9 che importa qual è il tuo stato se a te non sembra buono e come ribatti se si definirà felice uno vergognosamente ricco e quell'altro padrone di molti schiavi ma schiavo di più persone ancora diventeranno felici per la loro frase non temere poi che un bene tanto grande tocchi ad un uomo indegno solo il saggio e contento delle sue delle cose sue gli sciocchi invece sono tormentati dal disgusto di se stessi stammi bene i due gruppi sono in realtà uniti dall'amore smodato che ebbero per la ricchezza materiale durante la vita terrena ma sono spaiati separati in due gruppi per il modo contrario con cui dimostrarono questo loro amore deviato strabico storto non diritto come la via che si dovrebbe seguire con le parole e coi fatti questi fuor kerci che non hanno coperchio piloso al capo e papi e cardinali in cui usa varizia il suo soperchio e io maestro tra questi cotali dovrei io ben riconoscere alcuni che furo immondi di cotesti mali questi il gruppo di sinistra che non ha capelli sopra la testa furono chierici papi e cardinali nei quali la varizia usa interviene con mostra il suo eccesso e io maestro virgilio tra questi qua tra questo gruppo di sinistra io ne dovrei bene riconoscere alcuni che furono sporchi di questi mali colpe io avevo chiesto a virgilio se tutti fuor kerci questi kercuti alla sinistra nostra e lui mi risponde affermativamente questi fuor kerci che non hanno coperchio piloso al capo la varizia il possedere desiderare avidamente ed eccessivamente i beni materiali è decisamente comune tra i chierici infatti virgilio specifica che quel gruppo è composto da chierici papi e cardinali tutto al plurale ti ricordo che ce ne sono così tanti che poco fa ho scritto qui video gente più che altrove troppa tra sta gente qua kerci e papi e cardinali usa avarizia non usava avarizia al passato o userà usa al presente un presente allungato non di certo momentaneo un presente eterno interessante come la prima terzina sia traducibile con il concetto che l'avarizia tra gli uomini di chiesa usa si adopera si impegna il suo soperchio il suo punto più alto certamente è ancor più grave se l'avaro è colui che ha giurato di seguire e diffondere il messaggio del cristo crocifisso con una corona di spine la tonsura dei chierici quindi appunto il non avere peluria sopra la testa è chiamata qui coperchio come se appunto fosse la parte superiore mancante che copre la pentola e rima con soperchio un eccesso di avarizia che tradizionalmente usi e costumi soperchia gli uomini di chiesa alla notizia che la folla è formata da uomini appartenenti alla chiesa di roma perché chierici può anche essere generico ma papi e cardinali no non riesco a trattenermi rispondendogli che di sicuro ne posso riconoscere parecchi di uomini di chiesa vari che ho conosciuto quando erano in vita che ora sono morti non spreco un'occasione per parlare male del clero cattolico riconoscere di nuovo adesso che sono morti dato che li ho conosciuti la prima volta in la vita primaia dico testi mali che tra poco verranno specificati senza dubbio quali ne ho conosciuti tanti che furono immondi una parola forte che richiama proprio la sporcizia come appunto virgilio ribadirà nella prossima terzina dicendo sozzi appunto sporchi in modo eccessivo sozzi ripugnanti già la sola espressione questi cotali è dispregiativa come in convivio 1 11 e tutti questi cotali sono lì abominevoli cattivi d'italia e 3 6 o mai puoi giudicare di quei cotali anticipo 1 19 dove tra i simoniaci parlerò con un papa che aspettava l'arrivo lì di un altro papa e gli rinfaccerò che fatto vavete dio d'oro e d'argento quindi l'accusa forte dell'avarizia collegata all'idolatria presente perlomeno da quando da esodo 32 da esodo 32 da 1 a 10 il popolo sempre gli israeliti vedendo che mosè tardava a scendere dalla montagna sinai dove riceveva le leggi da dio si affollò intorno ad aronne fratello maggiore di mosè e gli disse facci un dio che cammini alla nostra testa perché a quel mosè l'uomo che ci ha fatti uscire dal paese d'egitto non sappiamo che cosa sia accaduto aronne rispose loro togliete i pendenti d'oro che hanno agli orecchi le vostre mogli e le vostre figlie e portateli a me tutto il popolo tolse i pendenti che ciascuno aveva gli orecchi e li portò ad aronne egli ricevette dalle loro mani e li fece fondere in una forma e ne ottenne un vitello di metallo fuso allora dissero ecco il tuo dio o israele colui che ti ha fatto uscire dal paese d'egitto ciò vedendo aronne costruì un altare davanti al vitello e proclamò domani sarà festa in onore del signore il giorno dopo si alzarono presto offrirono olocausti e presentarono sacrifici di comunione il popolo sedette per mangiare e bere poi si alzò per darsi al divertimento allora il signore disse a mosè va scendi perché il tuo popolo che tu hai fatto uscire dal paese d'egitto si è pervertito non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che io avevo loro indicata si sono infatti si sono fatti un vitello di metallo fuso poi gli si sono prostrati davanti gli hanno offerto sacrifici e hanno detto ecco il tuo dio israele colui che ti ha fatto uscire dal paese d'egitto il signore disse inoltre a mosè ho osservato questo popolo e ho visto che un popolo dalla dura cervice ora lascia che la mia ira grande anticipazione di questo canto si accenda contro di loro e li distrugga di te invece farò una grande nazione ed egli a me vano pensiero ad uni la sconoscente vita che i fessozzi ad ogni conoscenza or li fa bruni e lui virgilio a me stai mettendo insieme raccogli un pensiero vano vuoto inutile la vita terrena sconoscente senza conoscenza che li fece sozzi eccessivamente sporchi ad ogni conoscenza essere riconosciuti ora li fa bruni oscuri io ero sicuro che ne avrei riconosciuti molti ma virgilio mi ferma subito stai pensando a un qualcosa che non può avvenire in quanto in quanto in quanto dato che vissero in modo così sporco o dato che vissero in modo così sporco adesso sono bruni scuri neri oscuri a ogni conoscenza insomma non si possono conoscere questa l'ennesima relazione tra come vissero e come vivono oltre allo spostare pesi col petto al percuotersi all'urlarsi contro oltre come sempre alla mancanza di luce del cielo e di speranza interessante l'insistenza in poche terzine consecutive del concetto di conoscenza in varie sue forme mente riconoscere pensiero sconoscente conoscenza adunare sta per raccogliere mettere insieme come in 1 4 così vi dio adunar la bella scola ti ricordo che mentre il bene è rappresentato con la luce e il colore bianco il male è rappresentato dall'assenza di luce a partire dalla selva oscura di 1 1 e dal colore nero qui bruni come ultima parola il non poter riconoscere adesso alcuni di questi che certamente avevo conosciuto in vita ricalca allegoricamente il fatto che il gestire male la ricchezza cambia non solo fisicamente le persone evangelio di matteo 19 23 gesù allora disse ai suoi discepoli in verità vi dico difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli ve lo ripeto è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi per il mio nome riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi primi nella mia opera verranno spese parole ben diverse per francesco e il suo matrimonio con la povertà in 3 11 in eterno verranno ali due cozzi queste resurgeranno dal sepolcro col pugno chiuso e questi coi crin mozzi maldare e maltenere lo mondo pulcro ha tolto loro e posti a questa zuffa qual ella sia parole non ci ha pulcro in eterno verranno arriveranno ai due punti di scontro questi il gruppo di sinistra risorgerà col corpo dal sepolcro con il pugno chiuso e questi altri il gruppo di destra coi capelli crini criniera mozzati tagliati mancanti dare in misura sbagliata agli altri perché burli e tenere in misura sbagliata per se stessi perché tieni ha tolto privato loro del mondo bello il paradiso e li ha posti a questa zuffa scontro caotico quale che essa sia non l'abbellisco con le mie parole eternamente questi due gruppi continueranno a scontrarsi nei due punti diametralmente opposti del cerchio con il giudizio universale queste ombre divise riacquisiranno entrambi i propri corpi però i primi il gruppo di sinistra l'unico del quale si è parlato finora che continua ad essere il primo ad essere citato avranno i pugni eternamente chiusi maltenere mentre questi altri quelli l'altro gruppo quello di destra avranno i capelli tagliati maldare come gli avari il gruppo di sinistra hanno voluto tenere tutto con sé nella vita terrena non aprendo mai le mani per spendere ma tenendole sempre chiuse per tenere ed erano anche uomini che dicevano di seguire il cristo così risorgeranno coi pugni chiusi mentre la colpa contraria quella di destra che per tutta la vita terrena ha dato i beni terreni in modo sbagliato risorgeranno senza neanche capelli questi risorgeranno del sepulcro riprende ciò che è stato detto anche nel canto precedente ciascun rivedrà la trista tomba ripiglierà sua carne e sua figura se ci fosse bisogno della conferma che il gruppo che risorgerà senza capelli è quello opposto agli avari la pena contraria in 222 parla un'anima della cornice degli avari ma non perché sia avara ma appunto anche lei per la colpa contraria e dice quanti risorgeranno coi crini capelli criniera scemi mancanti per ignoranza che di questa pecca toglie il penter vivendo nella vita terrena e negli estremi nel limite della vita terrena mentre riguardo i pugni chiusi parlando degli avari dice allora nella vita terrena ma accorsi che troppo aprir l'ali poteano le mani a spendere e aggiunge però se io sono tra queste tra quella gente stato che piangea l'avarizia per purgarmi per lo contrario suo me incontrato la punizione anzi ad essere più precisi il continuare ad avere i pugni chiusi è facilmente comprensibile riguardo al non aver capelli invece mi sono necessari due citazioni bibliche collegate tra loro sempre riguardanti cosa riguardi il mal dare evangelio di giovanni 12 3 e seguenti maria la sorella del risuscitato lazzaro allora prese una libra di olio profumato di veronardo assai prezioso cosparse i capelli di gesù e li asciugò con i suoi capelli e tutta la cassa si riempì del profumo dell'unguento allora giuda escariota uno dei suoi discepoli che doveva poi tradirlo disse perché quest'olio profumato non si è venduto per 300 denari per poi darlo ai poveri questo egli giuda disse non perché gli importasse dei poveri ma perché era ladro e siccome teneva la cassa prendeva quello che si mette che vi mettevano dentro gesù allora disse lasciala fare perché lo conservi per il giorno della mia sepoltura i poveri infatti li avrete sempre con voi ma non sempre avete me la seconda citazione dall'evangelio di luca 7 37 38 ed ecco una donna conosciuta nella città come peccatrice venne a sapere che gesù stava mangiando nella casa del fariseo e portò una boccetta di alabastro contenente dell'olio dell'olio profumato dopodiché si mise dietro di lui ai suoi piedi e piangendo gli bagnava i piedi con le lacrime e glieli asciugava con i propri capelli inoltre glieli baciava teneramente versandovi sopra l'olio profumato in entrambi i racconti vi è una donna che sembrerebbe usare male dell'olio profumato costoso per versarlo sui piedi o sui capelli del cristo che è vicino alla crocifissione il cristo invece non ferma le donne nei racconti ma le lascia fare le lascia anche asciugargli i piedi con i loro capelli crini criniere quelle due donne dei due racconti non hanno in realtà usato niente in modo sbagliato il cristo vivo sulla terra col corpo stava per lasciarli e non c'era alcun miglior modo per usare dei beni terreni costosi se non per onorarlo per poi chinarsi davanti a lui e usare la parte più alta della persona i capelli per asciugare la parte più bassa del cristo i suoi piedi adesso l'aggravante dell'avere i crin mozzi spero di sia più chiara questi che nella vita terrena hanno usato male i beni terreni concessi loro dalla fortuna incaricata dal vero dio non avranno neanche i capelli per asciugare i piedi del cristo che verrà a giudicarli attenzione c'è scritto mal dare e mal tenere i beni terreni non si parla degli scialacquatori ripeto quelli che proprio sperperarono dissiparono anche quello che non avevano loro non fanno parte di coloro che hanno tenuto male i propri beni ma tra quelli che hanno fatto violenza contro se stessi alla strega di dalla stregua di chi si è suicidato e si trovano più in basso nell'inferno 1 13 settimo cerchio sepulcro pulcro e appulcro le unime le uniche rime in ulcro della mia opera in questo canto caratterizzato da rimedure la zuffa rende l'idea della confusione nello scontro non una battaglia organizzata ma più che altro una baruffa parole non ci appulcro inteso come non uso le mie parole per abbellire questa che è solo una zuffa per estensione non ci spendo parole su di loro dato che non volendo virgilio sare male spendere le sue belle parole per descrivere chi non spese niente con misura mal dare e maltenere però mentre per il maltenere uso il verbo avarizia cioè uso il termine avarizia per il mal dare non uso un termine specifico ma dico che è l'opposto di avarizia colpa contraria in 1 7 e lo contrario suo in 222 la parola prodigo in qualsiasi sua variante non compare mai nella mia opera anche l'ultimo verso collega a questi dannati con quelli del terzo canto lì infatti riguardo a coloro che non furono mai vivi non usando la ragione virgilio dice non ragioniamo di loro qui riguardo a questi così sporchi che appunto non viene riconosciuto nessuno neanche nessuno di loro dice parole non ci appulcro cioè non ci appellisco parole con le parole or puoi figliuolo veder la corta buffa di ben che son commessi alla fortuna e perché l'umana gente si rabbuffa che tutto l'oro che è sotto la luna e che già fu di quest'anime stanche non potrebbe farne posare una ora puoi figliuolo io vedere la breve che dura poco beffa inganno dei beni che sono messi con spinti con la fortuna per attraverso i quali gli esseri umani si rabbuffano a capigliano appunto perché tutto l'oro che c'è e che c'è stato sotto la luna sulla terra di queste anime stanche senza riposo non potrebbe farne riposare una virgilio mi chiama qui figliuolo come già in 1 3 io lo chiamerò anche lo dolce padre in in 2 27 e lo metterò in similitudine anche a una madre in 1 23 lo duca mio di subito mi prese come la madre cal rumore e desta e vede presso a sé le fiamme accese i beni materiali terreni che sono commessi alla fortuna virgilio li chiama corta buffa dopo aver usato il verbo burlare corta in quanto breve che dura poco e buffa in quanto sono una beffa una burla una cosa alla quale non si deve dare troppa serietà buffa compare anche in 1 22 dove compare sia il verbo tenere come qui mal dare maltenere che zuffa cito irato calcabrina della buffa volando dietro li tenne invagito che quei compasse campasse per averla zuffa ciò per cui gli umani muoiono sono in realtà una corta quindi breve insignificante buffa quindi burla inganno la prima terzina in analisi è un eco alle laude di jacopone da todi questo mondo è una truffa dove ogni uomo se rabbuffa attenzione alla scelta di ogni singolo verbo commettere dal latino cum cioè con insieme e mittere esattamente spingere mandare come i pesi dei dannati i beni materiali commessi alla fortuna non sono i beni immateriali commessi alla libera volontà di ciascuno sempre parlando di pluto di ricchezza e di ben che sono commessi alla fortuna adesso virgilio mi spiega che tutto l'oro che c'è mai stato sulla terra sotto la luna non riuscirebbe a dare tregua pace riposo a una soltanto di queste anime stanche esauste per il loro tormento ma eternamente condannate a continuare a riceverlo altra citazione al deconsolazione filosofie di boezio 2 2 se quanti granelli di rena gira il mare mosso dai soffi violenti o quanti altri risplendono in cielo rivelati dalle notti stellate altrettante ricchezze spargesse e non ritraesse la mano l'abbondanza con il suo corno pieno non per questo genere umano cesserebbe di piangere in miseri lamenti concludendo con un'ultima citazione lo quarto della farsalia di lucano essi che non erano certo prodighi spesero tutto il denaro che avevano per comprare un po di pane o corruzione del guadagno che rende pallidi ci furono di quelli che non mangiarono pur di vendere il grano in cambio dell'oro attenzione a livello letterale siamo nell'oltretomba e stiamo parlando di ombre dannate in eterno ma la mia opera è rivolta a te vivo che la leggi quindi allegoricamente tutto l'oro del mondo radunato insieme non può dare pace a un solo essere umano che ha queste colpe a conferma di ciò il verso che precede tale terzina è perché l'umana gente si rabbuffa ma rabbuffarsi non sono solo gli esseri umani di qua ma appunto anche quest'anime sta anche di là cito le mie rime 83 che le ricchezze siano vili appare ed imperfette che quantunque collette accumulate non possono quietar qui posarne una ma dan più cura preoccupazione in questa coppia di terzina evidenzio questo continuo parallelismo e allegoricamente coincidenza degli esseri umani che stanno di qua par che l'umana gente si rabbuffa con gli esseri umani momentaneamente senza corpo che stanno di là di quest'anime stanche maestro mio dissio or mi di anche questa fortuna di che tu mi tocche che che i ben del mondo assi tra i branche e quelli a me o creature sciocche quanta ignoranza è quella che v'offende or vo che tu mia sentenza ne imbocche maestro mio virgilio dissi io ora dimmi anche questo questa fortuna della quale tu mi tocchi fai cenno l'argomento che cos'è che ha così tanto le sue grinfie zampe con artigli i beni del mondo terreni e lui virgilio a me o creature esseri creati sciocche quanta ignoranza mancanza di conoscenza è quella che vi offende rega danno ora io virgilio voglio che tu io imbocchi riceva dolcemente nella bocca la mia sentenza spiegazione definitiva chiedendo altri insegnamenti a virgilio continuo a chiamarlo maestro parola che compare quattro volte in questo canto dato che mi ha parlato ha toccato l'argomento della fortuna gli chiedo cosa sia questa fortuna che ha tra le sue branche i beni terreni i ben del mondo branche in senso figurato per zampe con artigli proprio come quelle delle bestie 1 17 due branche avea pilose in sin lascelle sempre sempre in quel canto e con le branche l'aere a sé raccolse in 2 26 in 1 27 sotto le branche verdi e ricordo anche cerbero del canto precedente un ghiate le mani la fortuna ben inteso riguarda i beni del mondo quelli terreni quelli sotto il cielo della luna non i beni spirituali virgilio si irrita per tale domanda rispondendo con un o creature sciocche quante ignoranze è quella che offende la sua irritazione non è rivolta direttamente verso di me ma alle creature sciocche mentre io invece sono una fattura che ignorano non conoscono la risposta a tale domanda anche il diavolo dite è una creatura quando virgilio me lo mostrerà in fondo all'inferno 134 scriverò cal mio maestro virgilio piacque dimostrarmi la creatura che ebbe il ben sembiante qui creature sciocche in rima con tu mi tocche e bocche sono chiare riferimento di virgilio ai neonati più che a me personalmente è plurale tra l'altro chiamate qui da lui creature non in senso specifico dato che sono fatture anche loro ma per la loro vicinanza quella dell'infante e del suo linguaggio con la perfezione tema che verrà più volte toccato nella mia opera devo evidenziare il fatto che il pagano virgilio qui mescoli due termini fondamentali della bibbia dato che dice creature invece di fatture riferendosi approssimando al genere umano materiale mentre nella terzina successiva dice fece invece di creò riferendosi ai cieli ai cieli spirituali tale ignoranza offende tali creature reca danno appunto fesa citazione al de consolazione filosofie di boezio 2 1 e tu invece ti sforzi di trattenere la ruota della fortuna che gira vorticosamente ma o stoltissimo tra tutti i mortali se la sorte comincia a fermarsi cessa di essere tale dato che dovrebbe essere ormai nota cosa sia questa fortuna come dirà dopo così tanto diata da chi invece dovrebbe lodarla nonostante questa risposta è comunque disposto a imboccarmi affinché io la lo riferisca a mia volta una volta per tutte speriamo termine dolcissimo per rendere proprio l'idea del genitore che nutre il piccolo figlio accompagnandosi accompagnando il cibo alla bocca figliuolo fortuna e provvidenza divina sono messi in correlazione anche nella mia monarchia 2 9 colui lo cui saver tutto trascende fece i cieli e li cieli e di è lor chi conduce si cogne parte ad ogni parte splende distribuendo ugualmente la luce similemente agli splendor mondani ordinò general ministra e duce colui dio che il suo sapere trascende oltrepassa tutto ogni cosa fece i cieli e li diede a chi li conducesse agli angeli distribuendo in modo uguale la luce in modo simile riguardo a ciò che splende sulla terra beni materiali impose una guida e amministratrice generale la fortuna il sapere di dio trascende tutto dove trascendere significa superare oltrepassare fino a esistere al di sopra della realtà sensibile a proposito del sapere di dio del trascendere prima lettera ai corinzi 2 14 15 e 16 ma l'uomo naturale non riceve le cose dello spirito di dio perché esse sono pazzia per lui e non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente l'uomo spirituale invece giudica ogni cosa ed egli stesso non è giudicato da nessuno infatti chi ha conosciuto la mente del signore da poterlo istruire ora noi abbiamo la mente di cristo dio ha fatto i cieli fece non creò panico le prime parole del primo libro della bibbia lo genesi sono in principio dio creò il cielo e la terra la giustificazione del sostituire questo verso fondamentale può risiedere nel fatto che per il sistema tolemaico la terra la luna e il sole stesso sono considerati pianeti anche se il discorso è più complesso e anche ciò che c'è compreso dentro al primo cielo è fatto materialmente non creato come scritto anche in altri punti della mia opera già in 1 2 virgilio dice a beatrice o donna di virtù sola per cui l'umana spezzi eccede ogni contento di quel c'è il cammino ricerchi sui il primo cielo quello della luna appunto che contiene la terra ti ricordo anche di come sia il pagano virgilio a parlare della creazione biblica e mentre virgilio in questo canto è definito da me e quel savio gentil che tutto seppe qui virgilio definisce il vero dio colui lo cui saper tutto trascende quindi virgilio è colui che seppe tutto in pass al passato dio è colui il quale sapere trascende in un presente eterno tutto l'altro dettaglio sta nel fatto che virgilio parlando della creazione del vero dio descritta nella bibbia giusto per ripeterti chi parla di cosa dice che colui lo cui saper tutto trascende dio parola che virgilio dice e dirà ma non in questo caso fece quindi materialmente li cieli e poi die lor chi li conduce quindi almeno non dice che fece chi li conduce ma sottointeso creò spiritualmente gli angeli con le non sono sinonimi adesso però stai più attento perché se vuoi ascoltare la verità è meglio ascoltare beatrice quando sarà lei a parlare di angeli e cieli in paradiso in 329 dirà che lei è certa di ciò che dice perché io beatrice l'ho visto la ve sapunta diventa un punto ogni ubi dove e ogni quando in dio insomma e parla di concreato fu ordine e costrutto alle sostanze e quelle intelligenze angeliche furon cima qui prime creature nel mondo in che puro atto fu prodotto pura potenza tenne la parte ima più bassa la terra nel mezzo nei cieli strinse potenza con atto tal vime legame che giammai non si divì ma slega ieronimo san girolamo vi scrisse lungo tratto di secoli che molto prima furono degli angeli creati spiritualmente anzi prima che l'altro mondo fosse fatto materialmente convivio 2 4 gli muovitori di quelli cieli di quelli i cieli sono sostanze separate da materia cioè intelligenze le quali la volgare gente chiamano angeli concetto che ha le sue basi già sulla metafisica di aristotile 9 2 seguenti le intelligenze angeliche spirituali conducono i cieli non sono gli angeli della prima schiera ma salendo di cero si sale anche nella gerarchia angelica arcangeli principati potestà virtù dominazioni troni cherubini serafini il compito delle gerarchie angeliche è qui quello di condurre i cieli in modo tale da distribuire in modo uguale la luce in modo che ogni parte risplenda dio ha distribuito la luce in modo uguale e così non c'è contraddizione in questo la diversi la diversa luminosità che noi vediamo è dovuta dal fatto che non tutto è in grado di ricevere e ridistribuire questa luce allo stesso modo provo a chiarirti questo punto con un esempio pratico se per uscire da una stanza incandescente devi spingere una porta di legno con una maniglia d'oro se spingerai la porta di legno la sentirai leggermente calda se proverai a stringere la maniglia d'oro ti ustionerai eppure la stanza nella stanza la temperatura è quella ma legno e oro non ricevono e ridistribuiscono il calore allo stesso modo anche se sono alla stessa altezza 3 1 inizia proprio così la gloria di colui che tutto muove dio attraverso i suoi angeli per l'universo penetra e risplende in una parte più e meno altrove nel ciel che più della sua luce prende insomma dio distribuisce la luce in modo uguale poi ci sono cieli che prendono più o meno luce ciò non contraddice il fatto che salendo i cieli aumenterà la mia percezione e ricezione della luce in modo simile riguardo agli splendori mondani quindi non più la spiritualità celeste ma la materialità terrestre diede l'ordine alla fortuna di essere ministro e duce di questi come le gerarchie angeliche conducono i cieli in modo simile la fortuna amministra e conduce i beni terreni li splendor mondani definizione interessante che fa notare come appunto i beni terreni siano un qualcosa che materialmente splende sulla terra ma in netto contrasto con ciò che spiritualmente splende nei cieli da notare come questo rotolare dei pesi materiali questo voltare delle sfere celesti immateriali queste continue giravolte anche tra chi governa e chi è governato richiamino il concetto stesso della ruota della fortuna di una fortuna che gira e così via una fortuna che qui supera il concetto del caso la pagana dea fortuna bendata sempre per ribadire il concetto che uso figure precedenti per il mio scopo come il mio pluto di inizio canto che per mutasse a tempo li ben vani di gente in gente ed uno in altro sangue oltre la difension di segni umani percuna gente impera e l'altra langue seguendo lo giudicio di costei che è occulto come in erba langue che sempre la fortuna permutasse trasferisse a tempo debito i beni vani fallaci quelli terreni di gente in gente popoli e da uno all'altro sangue famiglie fuori dalla difesa riparo dei segni intelletti umani affinché una gente parte impera governa con forza e l'altra langue è sottomessa soffre seguendo il giudizio di colei la fortuna che è occulto nascosto come tra l'erba il serpente dio ha incaricato la fortuna di amministrare gli splendor mondani qui chiamati li beni vani inutili per raggiungere il vero bene affinché passassero tra le varie persone in un modo che è incomprensibile per l'intelletto umano che non riesce a capire i suoi movimenti come non vede un serpente che silenziosamente striscia nell'erba devo fare un collegamento a 2 30 dove spiego l'apparente contraddizione del chiamare vani i beni materiali e di conseguenza concreti quelli spirituali quando di carne corpo vivo mortale aspirto solo anima viva immortale era io beatrice salita dal cielo alla terra e la bellezza e virtù cresciuta mera fu io beatrice a lui io men care men gradita e volse io volsi i passi suoi miei per via non vera selva oscura della materialità immagini di ben seguendo false qui li beni vani che nulla promession promessa rendono intera mantengo dopo general ministra e duce appare permuta un altro termine che rientra nell'ambito del diritto il contratto di scambio che risale a quando ancora non esisteva neanche la moneta in origine non vi erano differenze sostanziali tra vendita e permuta si trattava di un do ut des do a te affinché tu di a me dio ha incaricato la fortuna di permutare commutare sostituire i beni terreni a tempo prestabilito tra gente e gente tra sangue sangue di gente in gente ed uno in altro sangue dove per genti si intendono popoli e per sangue si intendono le famiglie come in 1 29 credo che uno spirito del mio sangue famiglia pianga soffra dove mi riferisco al mio parente geri del bello difensione per difesa rifugio riparo come anche in convivio 4 24 da alla vite le foglie che per difensione del frutto e nel prossimo canto 1 8 chi io virgilio vincerò la prova di entrare nella città di dite di dite qual cala difensione dentro saggiri i segni umani insomma non possono comprendere né prevedere né difendersi dal movimento della fortuna solo per citare un altro paio di citazioni bibliche sui limiti dell'intelletto umano ecclesiaste 8 17 allora ho osservato tutta l'opera di dio e che l'uomo non può scoprire la ragione di quanto si compie sotto il sole per quanto si affaticchi a cercare non può scoprirla anche se un saggio dicesse di conoscerla nessuno potrebbe trovarla impera è contrapposto a langue quindi non si parla solo di un comandare obbedire che niente di per sé avrebbe sbagliato ma come più volte ribadito nel canto precedente un avere il potere e usare la forza stare sopra a chi il potere non ce l'ha e subisce questa violenza stando sotto il giudicio della fortuna incaricata da dio a fare ciò è occulto come il serpente che striscia nell'erba l'ultimo verso è pressoché la traduzione di un verso delle bucoliche di virgilio 393 vostro saber non ha contasto a lei questa provvede giudica e persegue suo regno come il loro gli altri dei le sue permutazioni non hanno tregue necessità la fa esser veloce si spesso viene chi vicenda la consegue il vostro sapere non ha possibilità di contrasto contesa a lei fortuna questa fortuna provvede prevede giudica e persegue opera il suo regno come il loro regno gli altri dei la sua permutazione scambi non hanno le sue permutazioni scambi non hanno tregue pause dalla battaglia la sua necessità il volere di dio la fa alla fortuna essere veloce così spesso viene succede chi riceve un cambiamento di vicenda condizione dato che noi umani non possiamo conoscere gli spostamenti della fortuna non possiamo sicuramente contrastarli fargli una contesa a lei la fortuna fra tre cose provvede vede in anticipo come nelle mie rime 48 2 se lippo amico sei tu che mi leggi davanti che proveggi alle parole che dirti prometto giudica da ius e dico cioè pronuncia la sentenza persegue cioè mette in esecuzione il suo regno di lei fortuna come fanno gli altri dei per il loro regno all'interno del loro compito del loro ruolo altri dei perché la fortuna è una nota dea pagana e questa mia opera ingloba in continuazione tale cultura abbiamo appena superato caron minos cerbero e pluto in 2 26 scrivo queste parole e se licito me o sommo giove che fosti in terra per noi crucifisso giove che fu crucifisso per noi mentre in 3 1 chiedo personalmente aiuto al buon appollo o buono appollo all'ultimo lavoro fammi del tuo valore sì fatto vaso nel passo già citato del convivio riguardo alle intelligenze angeliche scrivo li gentili li chiamano dei o dè e proprio qui e qui è proprio quel savio gentil a chiamarle così le sue permutazioni termine che ritorna e che ho appena spiegato non hanno tregue quindi pause ma non ma con un senso forte le guerre le battaglie hanno tregue la necessità la fa essere così veloce nelle permutazioni che fa dato che sempre boezio nelle sue consolazioni 2 1 scrive che se comincia a fermarsi la sorte cessa di essere queste cose e colei che tanto posta in croce pur da color che le dovrì andar lode dandole biasmo a torto e malavoce ma ella se beata e ciò non ode con le altre prime creature lieta volve sua spera e beata si gode questa la fortuna appena spiegata ecco lei che è così tanto messa in croce condannata anche da coloro che avendo perso dei beni materiali la dovrebbero comunque lodare dandole invece biasmo disapprovazione a torto senza ragione e parlandole male ma lei la fortuna si è beata vicino a dio e non sente tutto ciò il biasimo di chi dovrebbe lodarla lieta felice con le altre prime creature per prime angeli volve gira la sua spera svolge il suo compito come gli angeli girano i cieli e gode prova piacere beata felice l'essere messi in croce è un modo per dire di dire appunto con chiaro riferimento a ciò a ciò che subì anche il cristo perseguitare un qualcuno qualcosa soprattutto se incolpevole paradossalmente sono gli uomini che condannano le decisioni di dio senza averle capite né tantomeno avendo il potere di contrastarle e capirle in questo caso la fortuna è perseguitata offesa anche da coloro che invece dovrebbero lodarla e invece al contrario le danno biasimo perché se hai perso i tuoi beni terreni allora dovresti capire quanto questi siano vani e tornare sulla diritta via quella insegnata da un altro che gli uomini hanno messo in croce per quanto paradossale possa apparire prima della spiegazione di virgilio quando comprendi perché hai perso le ricchezze terrene dovresti lodare la fortuna e non offenderla così fece boezio così fece san francesco quest'ultimo addirittura la pre la perse di proposito anche nel convivio metto in contrapposizione lodare e biasimare convivio 12 la propria lode loda e lo proprio biasimo è da fuggire il biasimo che le danno coloro che invece dovrebbero notarla è a torto il contrario di a ragione e con mala voce con una voce malvagia dicendone parlandone male biasmo usato qui per la femminile fortuna è usato anche in uno 5 per un'altra figura femminile per torre il biasmo in che era condotta e le semiramis nell'ultima terzina in analisi la fortuna è definita due volte beata felice salva vicino a dio insieme alle altre prime creature quindi gli angeli nelle loro varie gerarchie che stanno ancora in cielo con dio similmente alle creature angeliche anche lei è come se muovesse un cielo volve sua sfera nello svolgere il suo compito facendo spostare i le proprietà terrene i beni vani la fortuna non solo è beata e non ascolta chi la offende ma si gode con le altre prime creature lieta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti